Una buona serata a tutti i nostri telespettatori di Rossini TV che ci seguite qua sul canale 633 Digitale Terrestre chi ci segue anche in diretta su Facebook e chi al nostro sito www.rossinitv.it Siamo in diretta sono le 20.08 minuti e questa sera per rispondere anche alle domande dei cittadini abbiamo qua ospite in studio con noi Palmiero Lucchielli, sindaco delle comune di Vallefoglia e presidente dell'Unione Comune Pian del Bruscolo che saluto e ringrazio Buonasera Buonasera ai telespettatori Allora siamo qua con il sindaco Ucchielli, la primissima cosa prima di andare a leggere le tante domande che sono arrivate soprattutto in queste ultime ore, ne sono arrivate diverse chi su Whatsapp ha voluto scriversi, chi anche su Facebook Sindaco Ucchielli è ufficiale il ritorno delle marche in zona zalla questa ordinanza che partirà da domenica, una bella notizia che vuol dire che comunque in queste settimane siamo stati bravi dal punto di vista regionale, dal punto di vista sanitario ed è una buona notizia anche per alcune attività soprattutto quella della ristorazione che possono per qualche orario rimanere aperti, partiamo da questo Penso che sia una buona notizia pare che sia così naturalmente questo non significa che bisogna abbassare la guardia nel senso che anche oggi sono morte quasi 800 persone occorre ovviamente mantenere le regole di fondo e cercare di passare questo periodo difficile per arrivare diciamo a gennaio, febbraio insomma primavera prossima con il vaccino e riprendere un'attività normale si fa per dire perché il periodo è quello che è e ne avremo per un bel pezzo insomma dovremo passare l'inverno e riprendere tutte le attività economiche e produttive in un periodo molto difficile però supereremo anche questo insomma Sicuramente non l'ho fatto prima di iniziare lo faccio ora ovvero quello dei contatti perché abbiamo un numero Whatsapp a disposizione il 320 015 32 912 per chi quindi vuole intervenire tramite dei messaggi di testo messaggi scritti oppure chi addirittura vuole telefonare quindi fare direttamente lui la domanda al sindaco Palmirocchielli 0721 26 337 questo è il numero di telefono fisso una domanda che ci è giunta proprio in questi giorni anche se il comune proprio questa mattina ha risposto ma magari la nostra telespettatrice non l'ha potuto seguire è quella di Luisa che in una domanda fatta tramite Whatsapp ci ha chiesto se il comune di Vallefoglia nei prossimi giorni attirà i buoni spesa gli possiamo dire sì magari il sindaco ci spiega in che modo ma noi abbiamo attivato sul sito del comune abbiamo approvato i criteri le procedure e dai prossimi giorni partirà la distribuzione di oltre 100 mila euro di buoni spesa considerando il fatto che comunque Vallefoglia ha diciamo nell'anno che si sta per concludere circa un milione e mezzo di investimenti sulle politiche sociali e prevediamo anche nel bilancio 2021 delle somme altrettanto importanti questi 100 mila euro comunque sono un sollievo per le persone che hanno diciamo necessità e quindi cercheremo di distribuire questi buoni online oppure anche direttamente secondo le situazioni cerchiamo di farlo quanto prima l'altra volta l'abbiamo fatto nel giro di una settimana dieci giorni quindi tutti quelli che vogliono prendere contatti possono prendere contatti direttamente con l'ufficio politiche sociali in piazza dei quartieri a Montecchio oppure attraverso il sito del comune Per quanto riguarda la situazione covid e per quanto riguarda Montecchio una domanda che ci è arrivata su whatsapp riguarda il fatto che nel parco adiacente alla chiesa di Montecchio spesso i ragazzi fanno un po' assembramenti magari chi gioca un po' a pallone e questo soprattutto viene fatto anche a volte senza l'utilizzo di mascherine il quale noi ci raccomandiamo soprattutto ai ragazzi perché lo dico anche io visto che sono state chiuse le scuole poi magari i ragazzi il pomeriggio vanno anche fuori un po' a giocare tra di loro magari almeno indossare la mascherina e siano cucchielli se comunque al corrente di questa cosa immagino di sì ed è comunque complicato prendere le misure su questo tipo di cose ma io non faccio altro che mandare messaggi tutti i giorni alla polizia locale ai carabinieri come avete visto abbiamo illuminato quasi a giorno con tutte le lampade a led il parco Berlinguer lungo Lungofoglia abbiamo diciamo illuminato il parco Volpone a fianco alla chiesa piazza della repubblica piazza dei quartieri c'è una nuova illuminazione con un contenimento anche dello spesa con tutte le lampade a led e soprattutto per illuminare meglio e cercare di dialogare anche con questi ragazzi ho avuto un incontro anche col nuovo parroco abbiamo cercato di ragionare capire le ragioni e soprattutto il rispetto delle regole il rispetto delle regole la mascherina il distanziamento tutte queste cose che i ragazzi devono stare molto più attenti insomma io devo dire che complessivamente va un ringraziamento alla comunità ai cittadini perché insomma dopo la prima vicenda drammatica in me del marzo scorso dove abbiamo avuto diversi morti non certamente quanto peso ma per noi abbiamo avuto molti dei morti e quindi la gente ha capito che non si scherzava è chiaro che ci vuole un'attenzione ai supermercati alle piazze soprattutto i giovani e quindi un appello molto accorato a stare attenti insomma più si sta diciamo lontani più si sta a casa anche perché non muore nessuno per un periodo per passare quest'inverno che sarà uno degli inverni che ci ricorderemo per tanto tempo e per arrivare poi al vaccino e ritornare in una situazione in cui si può fare non dico tutto quello che facevamo prima però probabilmente anche un ritorno della normalità insomma perché la gente ha voglia di normalità tante domande che sono arrivate riguardano un tema che poi affronteremo e che è stato di grande attualità in queste ultime settimane oserei dire anche in questi ultimi mesi è sempre stato anche sui giornali una domanda che ci è appena arrivata invece che riguarda la parte appunto della zona industriale di Talacchio che è da diverse notti al buio ci sono interventi previsti nel corrente? ma dunque la zona industriale di Talacchio è una storia un po' complicata perché lì c'erano due consorsi che hanno realizzato le opere di urbanizzazione un po' sottodimensionate anche le fognature un po' l'illuminazione ogni tanto succede questo fenomeno però ecco noi che abbiamo affidato tutto attraverso Consip l'illuminazione quotidianamente anche se in ogni palo della corrente elettrica c'è il numerino per chiamare ma lo facciamo anche come comune perché la città anche le aree industriali più sono illuminate e meglio è quindi quotidianamente quelli che mi mandano i messaggini a me su Whatsapp io rispondo immediatamente attraverso gli uffici interloquiamo con chi gestisce l'illuminazione e cerchiamo di fare al meglio il nostro dovere insomma una cosa che invece abbiamo segnalato anche nelle Vallefoglia Magazine andate in onda poco più di un'oretta fa è di una segnalazione che ci è giunta nelle scorse settimane quella di ragazzi spesso anche extracomunitari che si riuniscono e purtroppo ci sono delle situazioni di spazio di spazio di droga di cane si parla anche di ragazzi minorenni le zone a cui ci hanno fatto riferimento sono quella dell'ex hotel Ida Montecchio la zona dei vecchi spogliatoi nel campo sportivo di Montecchio quindi una zona molto vicina tra loro probabilmente queste due e anche il parco vicino alla casa della salute come si può combattere anche questo tipo di emergenza perché comunque in emergenza parliamo ed è giusto sensibilizzare soprattutto i ragazzi più giovani a questo argomento ma la città di Vallefoglia è diventata una città importante non solo il terzo comune della provincia Montecchio è il cuore di una città di 50.000 abitanti lì ruotano attorno tutti i cittadini da tutte le città da tutte le regioni d'Italia e gran parte dai paesi europei e anche dal mondo diciamo che è una città che assume delle caratteristiche che vanno tenute sotto controllo noi abbiamo messo diciamo un rafforzato il sistema delle telecamere abbiamo interloquito anche un po' con le associazioni con le famiglie con tutti quelli che devono ritornare ad educare io mi ricordo insomma noi avevamo una prima educazione nella famiglia poi nelle scuole poi nelle parrocchie poi nei partiti poi nei sindacati adesso questa è una fase difficile perché con i giovani educare è molto complicato quindi bisogna dialogare cercare di costruire e di capire le nuove generazioni e bisogna anche fare della repressione quando c'è di mezzo la droga lo spaccio e così via io devo fare un plauso all'arma dei carabinieri che interloquiscono molto attentamente anche con la polizia locale perché hanno fatto come si è visto un paio di arresti hanno bloccato una decina di ragazzi quindi però ecco bisogna costruire un rapporto anche istituzionale sociale e politico con le nuove generazioni quindi è un problema che passata anche l'inverno quando arriveremo a primavera in una situazione speriamo di normalità bisogna governarli governarli significa che tutti devono dare una mano a cominciare dalle famiglie e poi ecco sistemare eventualmente anche l'hotel che abbiamo fatto riferimento lì ha già avuto un'ordinanza quell'hotel abbiamo già chiesto di risistemarlo sono nati fatti verbali insomma c'è un'ordinanza mia da cinque anni fa sul decoro sulla sistemazione la verità diciamolo pure che gran parte dei beni con la crisi economica sono nelle mani del tribunale dei curatori parlamentari e noi abbiamo interloquito anche con il tribunale per vedere come possono darci una mano perché questi beni che sono nelle mani dei curatori parlamentari bisogna comunque tenerli in ordine e quindi c'è un'attenzione dell'amministrazione un dialogo aperto un po' e un po' diciamo un po' di ordinanze un po' di verbali e un po' di dialogo per dire date una mano tenerli meglio insomma ecco anche perché tutto questo renderebbe sicuramente anche la città di Montecchio più bella e più accogliente parliamo del tema del mese ma anche un po' di questo fine anno stanno arrivando davvero una miriade di domande e il tema del biodigestore qualche settimana fa è uscito un comunicato da parte anche del comune di Vallefoglie di un avvio di condivisione di un progetto con Marche Multiservizi molti cittadini si sono dichiarati subito contrari hanno fatto una riunione hanno creato un'associazione l'associazione è diversamente c'è una raccolta firme qua vedo domande di utenti che dicono siamo 3.800 cittadini già al momento com'è la situazione? la situazione è che Marche Multiservizi ha inviato poco tempo fa una lettera al comune dicendo che presentava un progetto sulla città di Vallefoglia noi abbiamo detto anche in consiglio comunale che valuteremo approvando l'ordine del giorno a larghissima maggioranza i progetti e avremo modo poi di esprimere opinioni punti di vista ho visto che sono uscite tante posizioni CGL, Cisluil Confindustria piccole e medie imprese il mondo dell'agricoltura che dicono che è utile che è importante perché le discariche vanno ad esaurimento i termopalorizzatori per fortuna nelle Marche ancora non sono previsti impianti di questo tipo dicono quelli che si intendono che fanno di mestiere diciamo gli scienziati del mondo dell'ambiente della sanità e dell'agricoltura e del trattamento dei rifiuti che è una tecnologia più innovativa che tutela meglio la salute e l'ambiente quello che ovviamente sarà io credo che nessuno oggi in nessun luogo del mondo tanto meno a Vallepoglia farà una struttura un capannone un impianto se non rispetta la tutela della salute dell'ambiente del resto nelle conferenze dei servizi in tutte le autorizzazioni che sono state date per qualsiasi tipo di struttura c'è sempre stato il parere favorevole dell'Asur dell'Arpan dei vigili del fuoco di tutti quelli che saranno chiamati abbiamo tempo noi faremo quanto prima una diciamo iniziativa tesa a far conoscere questo progetto da parte dei propositori nel caso del biogas allora lo autorizzò la regione che è uscito qualcosa sul biogas lo autorizzò la regione in variante addirittura del piano regolatore in quegli anni in questo caso chi autorizzerà sarà la provincia e quindi i comuni dovranno esprimere un parere così come tutti gli altri organi dello Stato a cominciare dai due più importanti perché l'Asur e l'Arpan significa tutela della salute e tutela dell'ambiente e questo è il primo punto che noi faremo in tutti i modi per quel che riguardano le competenze del comune rispettare quindi nei tempi diciamo di circa 90 giorni per esprimere i pareri ci sarà anche una forte partecipazione delle persone e ognuno dirà la sua e poi alla fine chi deve decidere deciderà ti interrompo interrompiamo anche le domande perché c'è una domanda al telefono quindi in collegamento telefonico ringrazio Andrea Marcelli e Antonio Astuti che sono qua in regia sentiamo una domanda da parte di Stefano e il tema dovrebbe essere sempre il biodigestore pronto Stefano? si pronto buonasera intanto buonasera a tutti buonasera al sindaco buonasera buonasera io guardi signor sindaco volevo fare sempre una domanda inerente al biodigestore volevo sapere quando sarà avviata un'informazione diciamo non di parte perché finora abbiamo sentito solo quello che ha detto Marche Multiservizi però sarebbe bello avere diciamo un'informazione un po' più vasta certo perché finora abbiamo avuto solo l'informazione che ha dato Marche Multiservizi che è un po' il suo punto di vista ecco certo e noi stiamo ringraziamo per la domanda stiamo pensando di avvalerci della collaborazione dell'università sia sul fronte della tutela della salute sia sul fronte dell'ambiente del rispetto dell'ambiente per fare in modo che ci siano più opinioni più punti di vista in maniera tale che ognuno possa dire la sua e poi ci sarà un momento anche di coinvolgimento perché ho fatto riferimento prima a tutte le organizzazioni del mondo delle imprese del mondo dei lavoratori alle associazioni ai comitati quindi ognuno dirà la sua e poi chi deve decidere deciderà certo è che a Vallefoglia almeno finché ci sarò io e questa giunta e questa maggioranza nessuno farà cose che non rispettano la tutela della salute dell'ambiente ed è la bellezza del nostro paesaggio perché la nostra è una città molto importante come voi vedete è tutto un cantiere aperto è una città che punta alla piena occupazione sono diversi gli imprenditori che investono in un momento difficile drammatico come questo facendo fabbriche nuove è chiaro che nel momento in cui fai costruisci molti posti di lavoro in più sono in atto diciamo un centinaio 120 milioni di euro pari a 250 260 miliardi di vecchie lire con 4-500 posti di lavoro è chiaro che il problema della mobilità della viabilità dell'inquinamento atmosferico tutte robe che bisogna tenere io penso per esempio un luogo in cui tutte le anime della comunità della città una specie di osservatorio che controlla tutto quello che succede in una città che è una città industriale che punta alla piena occupazione e che comunque come tutte le città industriali ha anche i suoi problemi perché se finiscono i problemi vuol dire che non siamo più su questa terra approfitto anche per dire però che noi abbiamo tante altre cose in corso perché domani pomeriggio apriremo la pista pedonale ciclabile che unisce Montecchio a Bottega il sabato prossimo inaugureremo dopo 40 anni la nuova piazza Rossini a Bottega sono iniziati i lavori del comune a breve firmeranno il contratto per il nuovo teatro a Bottega di Vallefoglia è finito il lavoro del teatro Branca Sant'Angelo in Lizzo sono finiti i lavori per circa 500 mila euro di consolidamento i movimenti franosi su Montecchio Montecchio è tutta illuminata direi quasi a giorno perché era un problema anche di sicurezza visto che è stato citato è stata una domanda appunto sul teatro di Bottega che ci chiedono a che punto è un annetto circa ma dunque i tempi contrattuali io se il maresciallo che controlla il mio telefono vede le telefonate che ho fatto per ultimare i lavori della pista pedonale ciclabile tutti i giorni per stare sul pezzo diciamo che la ditta del comune ha un anno e quella del teatro è uguale il comune è in comune in legno a fianco alla scuola Federico da Montefeltro la casa della salute dove c'è la vecchia palestra che dovrà essere realizzata la piazza e il parcheggio e quindi in teoria a Natale prossimo dovremmo andare nel nuovo comune significa avere un'unica sede adesso abbiamo quattro sedi con una dispersione delle persone che ci lavorano con una dispersione dei riscaldamenti che conterremo anche la spesa insomma e poi vedremo come utilizzare le attuali quattro sedi poi così per il teatro il teatro è un prefabbricato 330 posti sarà il più bel teatro dopo Pesaro Fano e Urbino in questa vallata dove non c'era un teatro perché né Tavuglia né Montelabatte né Petriano né Monte Calvo e per andare si può andare a Saludecio che c'è un teatrino sperando però di rivederli anche pieni diciamo i teatri il mondo dello spettacolo ha sofferto tanto questo è in questo momento è anche un auditorium per la musica per la verità da noi sono molti i gruppi musicali sono diverse le compagnie teatrali quindi direi che un luogo per la cultura inaugureremo a breve il nuovo teatrino rimesso a nuovo a Sant'Angelo in Lissola e il Museo Venanzi stiamo diciamo pubblicando una nuova diciamo una pubblicazione sulla storia e le radici storiche della città di Vallefoglia perché la città di Girolamo Genga di Giovanni Santi del conte Paciotti che era un grande architetto militare che progettava le città sicure di Mamiani oggi uno mi dice ma come Mamiani cosa c'entra con Sant'Angelo sì Mamiani e Sant'Angelo tant'è che il palazzo del comune si chiama palazzo Mamiani e diciamo Giulio Perticari Costanza Monte insomma abbiamo radici importanti che ci consentono di progettare il futuro anche con una caratura di carattere non locale ma anche di caratura nazionale insomma mi dicono da D'Aresia che c'è un'altra telefonata sentiamo se è in collegamento pronto? pronto? sì mi sentite? ti sentiamo se vuoi anche qualificarti chi sei? buonasera a tutti sono Andrea Torcoletti sono il presidente dell'associazione Diversamente che avete poc'anti citato che si è costituita a Vallefoglia il 22 ottobre volevo approfittare della presenza del sindaco per sottoporle alcune domande scusate ma ho un ritorno quindi non vi sento bene probabilmente devi provare per evitare magari il ritorno magari spegnere la televisione o perlomeno abbassare il volume perché sicuramente e parlare con noi attraverso soltanto il telefono perfetto grazie proviamo così e se facciamo le domande al sindaco che è qua a nostra disposizione questa sera oggi è il 4 dicembre quindi sono passati due mesi da quando è uscita la notizia sul resto del Carlino che preannunciava questa realizzazione di questo mega impianto da 105.000 tonnellate il 18 novembre signor sindaco è stato depositato il progetto per verificare poi la soggettabilità a via in tutto questo tempo abbiamo cercato di ottenere informazioni ma non siamo riusciti ad ottenere nulla e quindi abbiamo dovuto attendere che venisse depositato il progetto non pensa lei che sia arrivato il momento di incontrare i cittadini nonostante le difficoltà del covid e tutte le restrizioni visto che ha trovato modo di fare inaugurazioni premiazioni mi ha appena detto che le farà anche domani nel caso volesse dirci che non c'è stato tempo per approfondire e che quindi servirà altro tempo vorrei precisare che come associazione abbiamo sottolineato che Marche Multiservizi ha un consiglio d'amministrazione all'interno del quale noi siamo rappresentati quindi potevamo chiedere di ottenere informazioni già senza attendere che venisse depositato il progetto oggi sono passati 16 giorni da quando è stato depositato credo che sia un tempo sufficiente per farsi un'idea e che vorrei capire con precisione quale idea lei si è fatta su questa cosa e soprattutto le chiedo gentilmente di spiegare quali passi e quali azioni intende mettere in atto per difendere la salute dei suoi cittadini che ha più volte sottolineato in varie sedi di avere come punto principale della sua politica Andrea ti chiedo anche di fare un po' più di stringere un pochino un ritorno chiedo scusa ma un ritorno forte ti chiedo di stringere un pochino con la domanda e vengo a concludere e anche per quanto riguarda la qualità della vita e dell'ambiente dato che oggi è chiaro quale sarà l'impatto e chiudo dicendo che l'avevamo invitata perché ieri sera c'è stata una bellissima manifestazione che è andata naturalmente sul zoom dove abbiamo partecipato più di 200 persone abbiamo cercato di evidenziare quali sono i punti dell'associazione ma anche quelli che sono i punti di Pesaro città sostenibile grazie grazie per la domanda ma innanzitutto chi vuol parlare con me può chiamare al 338-8460-162 sempre quindi chiunque di voi a cominciare da te perché penso possiamo darci del tu e chiedere informazioni io alcuni anche del comitato ho parlato gli ho detto come stavano le cose appena arrivata la lettera che annunciava che presentavano il progetto poi è stato presentato il progetto il progetto è a disposizione quindi non c'è assolutamente nessun segreto è tutto limpido e trasparente noi faremo un confronto con online come avete fatto anche voi ieri sera il mio assessore diversi assessori hanno ascoltato le cose che avete detto noi abbiamo rispetto di tutti è chiaro che sentiremo le campane di tutti metteremo attorno un tavolo tutti quelli che rappresentano la comunità perché CGL e Cisluil credo che rappresentano qualcosa anche loro i comitati rappresentano un po' i sindacati delle imprese rappresentano un po' tutti quelli che sono gli attori di una comunità come ho già detto mi pare aver risposto perché per quel che riguarda l'impianto di biogas che abbiamo abbiamo sappiamo la storia come è nata e lì la regione ha autorizzato inderogo al piano regolatore e ha fatto variante e quindi il comune ha dato un parere con delle prescrizioni noi saremo chiamati ad esprimere un parere insieme agli altri comuni alle altre associazioni a tutti quelli che devono per legge esprimere i pareri e avremo modo ho detto che forse ci avarremo dell'università Marche Multiservizi verrà a spiegare il progetto perché dopo averlo presentato anche magari alcune aziende del territorio italacchio facendo esempio vogliono magari sapere quindi se ci sarà tutto il tempo necessario per esprimere tutte le opinioni tutti i punti di vista nessuno ha la verità in tasca noi siamo disponibili ad ascoltare è chiaro che nessuno autorizza una cosa che è fuori dalle norme dalle leggi bisogna evitare anche di fare diciamo un allarmismo inutile e dannoso che crea malessere nella comunità nel territorio nella società perché come si sa come avete detto anche voi ma come hanno detto tutti quelli che hanno fatto iniziative a cominciare dal consiglio che c'è stata a Tavuglia su diretta Facebook cosa che faremo anche noi e che ovviamente gli strumenti per il trattamento oggi dei rifiuti che ahimè si sono raddoppiati nel frattempo sono semplicemente tre uno è quello delle discariche tradizionali che in questa provincia da 70 sono ridotte a tre vanno ad esaurimento perché l'Europa prevede l'esaurimento delle vecchie discariche e sono i biodigestoni che devono essere ovviamente di ultime generazioni devono garantire la comunità e sono i termovalorizzatori che per il momento nelle marche quelli che vanno sotto il nome più volgare come inceneritori che nelle marche il vecchio consiglio regionale l'aveva vietato e non lo so cosa farà questo consiglio regionale ecco tutta la luce del sole con il massimo di trasparenza e di correttezza e niente da dover nascondere ogni giorno quelli che vogliono parlare con me io ho sempre in diretta il mio numero di cellulare e che vogliono incontrarmi sanno bene che io mi alzo prestissimo sono in comune all'alba e quelli che vogliono dialogare del resto giro almeno il comune 3-4 volte al giorno insomma chi vuole incontrarmi mi incontra in qualsiasi momento magari anche perché appunto alcune aziende del territorio direttamente di Talacchio ad esempio Little Service del presidente anche Lorenzo Pizza alcune aziende magari appunto avere più informazioni un'altra domanda che c'è arrivata in questi giorni era nell'ipotetico caso che i cittadini magari raccolgono 10.000 firme tutte contrarie verranno in quel caso ascoltati e si dice no ma parliamoci chiaro intanto le firme è un strumento provinciale semmai va raccolto in tutta la provincia non è che se si decidesse di farla a Pesaro si pronuncia solo la comunità della città di Pesaro perché è un impianto che dovunque si fa se si farà se si farà dovunque si fa il parere è della comunità io però ecco vorrei sottolineare ho citato tutte le organizzazioni del mondo della produzione e dei lavoratori perché sono un bel pezzo della rappresentanza poi naturalmente come si fa in tutte queste occasioni più gente dice la sua meglio è insomma un'altra domanda che ci è arrivata cambiamo argomento ora riguarda le piste ciclabili domani ne sarà inaugurata una sabato scorso è stato inaugurato il nuovo ponte in legno di collegamento tra bottega e Pian del Brusco una domanda che ci arriva è se si riuscirà mai ad unire le piste ciclabili di Vallefoglia con Pesaro in modo da arrivare in città o al mare in bicicletta è un progetto un sogno certamente c'è chi è stato che ha dovuto obiettare hanno fatto un filmato perché c'era un pezzo di tavola un po' fuori posto nel ponte che abbiamo riaperto non era era infatti una domanda non era la notizia che è stato fatto un ponte in legno che ha dato la pista pedonale ciclabile e l'ingegnere primavera della provincia metteremo a posto anche quella tavola fuori posto insomma però per dire che se uno vuol fare la polemica trova sempre un pello nell'uovo che è fuori posto è chiaro che vanno collegate perché noi abbiamo in quell'area solo Vallefoglia una ventina di chilometri di piste ciclopedonali nell'intera unione sono 110-120 km di piste pedonali ciclabili nel contratto di fiume che fino a ieri abbiamo tirato un po' le file io e Andrea Biancani che io convocherò a breve adesso ahimè tutto in videoconferenza perché c'è la drammatica vicenda del Covid perché sono previsti molti investimenti diciamo c'è una milionata sul fiume Foglia per quel che riguarda un'area di laminazione per il contenimento della velocità dell'acqua sono previste piste pedonali ciclabili lungo l'asta fluviale fino all'alta foglia insomma quindi come si vede io ho lanciato anche l'idea di una metropolitana fuori terra infatti ti interrompo perché è arrivata una domanda su appunto la metropolitana che è iscritto l'assessore Baldelli giusto la scorsa settimana chiedono anche che eventuali collegamenti si prevede per ora è un progetto più che altro anche un sogno anche un bel sogno parlo anche da ex studente anche dell'università di Urbino collegamento anche magari più veloce tra Pesaro Montecchio Urbino ma se uno non sogna più vuol dire che dormi io credo che anche dormendo bisogna sognarmi a guardare al futuro il messaggio politico e culturale è Valefoglia guarda avanti guarda al futuro cosa vuol dire vuol dire che un anello Pesaro Fano Fossombrone Urbino Montecchio Pesaro a fianco alla viabilità tradizionale la pista pedonale ciclabile e la metropolitana fuoriterra che consente una mobilità in un'area dove c'è l'80% dell'economia e che diciamo può trasportare le persone ma anche le merci e metterle in una condizione di ridurre l'inquinamento atmosferico di contenere gli incidenti e di fare in modo che si possa respirare un'aria anche migliore noi stiamo cercando per esempio la cantina sociale di Morciolo di fare con l'Università di Urbino un centro di ricerca scientifica sulla qualità dei prodotti dell'agricoltura come punto vendita e anche monitoraggio sull'inquinamento atmosferico perché l'inquinamento dei nostri camini l'inquinamento dei nostri termosifoni l'inquinamento un po' delle fabbriche l'inquinamento delle macchine è chiaro che in un'area fortemente sviluppata come quella dovremmo monitorare insieme l'Università dato che abbiamo la fortuna anche di avere l'Università di Urbino può essere uno strumento importante che ci può aiutare lì è stato approvato per quel che riguarda la metropolitana fuoriterra al Senato una mozione per uno studio di fattibilità io ho scritto sia al Ministro De Micheli sia al nuovo Assessore Baldelli che conosco per dire se si può fare completare questo studio e fare in modo che possa avvenire in tutto questo percorso per ridurre l'inquinamento atmosferico per ridurre gli incidenti per avere un territorio più piacevole più accogliente con meno inquinamento atmosferico con meno incidenti e con una mobilità più sostenibile ho anzi chiesto abbiamo fatto già una riunione una riunione Pian del Bruscolo a Cigelle Cisluil e a Lami di studiare la riorganizzazione della mobilità in quell'area in maniera tale che si possa usare di più per esempio il mezzo pubblico lasciare un po' di più a casa le auto andare a lavorare o in bicicletta oppure come prevede quella pista pedonale ciclabile che inauguriamo domani diciamo che apriamo più che inaugurare perché insomma si fanno cose di 5, 6, 7, 8, 10 persone per non fare assembramenti eccetera e perché insomma si collega il nuovo teatro il nuovo comune si collegano i poli scolastici e si dà una maggiore sicurezza per chi va a piedi soprattutto le persone più anziane ma anche i giovani giovanissimi per renderle più sicure abbiamo altre 2-3 domande intanto certe mi dicono che però c'è un'altra telefonata e quindi sentiamo buonasera 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 se si vuole presentare qualificare grazie sì buonasera buonasera a tutti sono Andrea Ricci buonasera sindaco ho ascoltato un attimo il suo intervento nel merito al senso e mi sono soffermato sul chi deve decidere deciderà è un po' aleatoria questa risposta e mi fa forse mi sbaglio ma mi fa capire che non è stato percepito il livello di preoccupazione che persiste ed esta la cittadinanza di Vallefoglia lei è il primo cittadino lei è stata da tutti noi votato come nostro referente e quindi ha onori di informare tempestivamente dove si vuole andare e cosa si vuole fare nel nostro territorio il fatto di citare come spesso ho sentito anche da associazioni autorevoli che riteniamo autorevoli il paragone di scariche biodigestore mi sembra un po' fantascienza in quanto tra il caleste e l'aeroplano ci sono tanti altri mezzi di trasporto forse quello che manca proprio nella nostra provincia è un piano dettagliato di studio dei rifiuti con tutte le tecnologie ad oggi applicabili che possono essere alternative a questo oltretutto perché ormai si è capito e rimarcato un sacco di volte l'impianto che Marche Multiservizi vuole realizzare è sovradimensionato di almeno tre volte rispetto al fabbisogno quindi questo si concentra in una zona comunque con una forte densità abitata quale è la piana di Talacchio e tutto il comprensorio limitrofo Caso Bernardi Rio Salso Padiglione con un impatto importante dovuto proprio a un sovradimensionamento grazie grazie per la domanda sindaco grazie a lei e lei sap che mi può chiamare sempre al mio cellulare quando vuole anzi è sempre tardi perché invece di fare tutti quegli imbrattamenti se chiamavate e discutevamo anzi questa è l'occasione come giustamente lei dice per fare un'analisi più attenta in verità devo dire che l'analisi è stata fatta tante volte prima dagli uffici della provincia perché se lei sa quando io ho iniziato c'erano circa 70 discariche tutte in mezzo a cielo aperto un disastro tutte bombe ecologiche e nella programmazione provinciale si è ridotti a tre si doveva arrivare una e ahimè se dovessimo localizzare oggi una discarica dove andrebbe non lo so perché nessuno la vorrebbe e le discariche come prevede l'anormativa europea vanno a disaurimento è chiaro che è opportuno discutere tutti attorno un tavolo tutti i comitati che ci sono questo penso che il ruolo importante ce l'abbia la provincia ma anche tutte le altre organizzazioni sottolineo perché il mondo è fatto di sindacati delle imprese e sono con Fartigianato CNA dell'agricoltura con diretti eccetera della Confindustria della Camera di Commercio dei sindacati dei lavoratori che sono preoccupati per il lavoro perché centinaia di posti di lavoro è chiaro che creano anche i problemi però io ricevo tutti i giorni le persone che cercano un lavoro e che magari avessero un lavoro precario lì noi abbiamo un investimento di 50 milioni di euro che è quello di Civitasmark per 170 posti di lavoro abbiamo un investimento di un capannone tipo questo del biodigestore che è 30 mila metri di un'azienda come Rivacold che assumerà abbiamo abbiamo un nuovo capannone che sorgerà di un altro imprenditore abbiamo l'ampliamento della Fab che lavora per l'IKEA sono centinaia di posti di lavoro che ovviamente come tutte le attività produttive creano anche problemi però ecco mi pare importante ragionare e dialogare in questi due o tre mesi che ci sono e poi le cose se si deciderà che la bontà del progetto la qualità del progetto la dimensione del progetto sarà valida o meno oppure non lo so perché ci sono altre ipotesi su Pesero esatto non è detto non so come finirà lo discuteremo insieme noi diremo la nostra vogliamo vedere prima cos'è esattamente la qualità del progetto alcuni lo paragonano a questo di Foligno noi probabilmente inviteremo anche il presidente di questo comitato una specie di osservatorio che sovraintende a questo già realizzato che è uno degli ultimi realizzati di biodigestori a Foligno che è qui vicino perché è in Umbria e poi ognuno di noi esprimerà un parere il comune dovrà dare un parere ho citato l'impianto quello che c'è già che naturalmente i titolari sono impegnati a fare in modo che si eliminino i cattivi odori intubando mettendo un capannone quel che bisogna fare perché è chiaro che tutte le cose che si fanno in tutte le città tanto più a Vallefoglia stanno nelle norme di legge nella tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini quindi non è escluso anche che quando sarà possibile lei stessa andrà a Foligno magari a vedere l'impianto ma ci andremo insieme tutti quelli che vogliono fare che devono esprimere i pareri obbligatori per legge ma anche quelli come i sindacati delle imprese e i lavoratori o i comitati che comunque dicono loro è giusto che vadano a vedere prendano visione e poi diranno alla fine parere favorevole o contrario come è in un sistema democratico una domanda invece cambiamo argomento parliamo di sanità parliamo di salute una domanda che ci dice visto che Vallefoglia è una città con un molto ampio numero di abitanti un pronto soccorso non verrà mai fatto ma in verità lì c'è una casa da salute importante un investimento di 2 milioni di euro dove noi ci impegniamo tanto io ho già scritto una lettera a Saltamartini che è il nuovo assessore per dirgli che la venga a vedere che va rafforzata c'è il 118 in H24 tutti i servizi per semplificare che non sono ospedale dove uno deve andare o a Pesaro o Urbino o la mobilità passiva verso l'Emilia Romagna devono essere fatti nella casa della salute di Vallefoglia che è una casa di salute che serve 50 mila abitanti anzi serve di più perché quell'area ha una fluttuazione di quelli che vanno a fare la spesa ai centri commerciali che vanno a lavorare nelle fabbriche vengono da quasi mezza provincia quindi ecco mi ha promesso anche ai consiglieri regionali mi diceva stamattina Michela Vitri che è stata eletta in quelle zone che si è impegnato a rispondere all'interrogazione in consiglio regionale abbiamo posto la questione all'altro assessore Aguzzi del potenzialmente il rafforzamento del punto informazione lavoro a Morciola perché lì ci sono 5 laboratori per la formazione professionale e per fare in modo che chi cerca lavoro diciamo lo trovi perché è chiaro che se diciamo servono meccanici o saldatori se la regione fa i corsi di formazione in quei 5 laboratori quelli finiti i corsi trovano il lavoro quindi i servizi sono tanti in un territorio che è molto vivace che c'è movimento e questo è sempre un buon segno prima parlato di Civitas Marche che darà tanto lavoro qua mi chiedono subito vota risposta quando sarà pronta i lavori stanno andando avanti io con le imprese abbiamo fatto un sopralluogo io penso che se tutto fila liscio fine 2022 tenete conto che ormai siamo a fine dell'anno 2021 lì c'è previsto 200 diciamo appartamenti per persone non autosufficienti persone grandi come le chiamiamo noi non vecchi anziani 24 alloggi per malattie d'Alzheimer 20 alloggi per persone grandi diciamo autosufficienti è previsto un palazzetto dello sport per persone diversamente abili è previsto un pistodromo per l'educazione stradale rispetto al codice della strada è previsto un talent lab una specie di laboratorio strategico per le nuove generazioni e dicono loro assumeranno 170 persone c'è il problema io ho fatto preparare una lettera di modernizzazione del sistema aviario di potenziamento del ponte verso Montalabate è un collegamento importante con Montecchio vedremo come farlo insomma è un pezzo di città importante un bel investimento è un centro di coesione sociale uno dei più importanti del centro Italia sarebbe auspicabile che la regione convenzionasse con questa struttura privata dove i comuni di Vallefoglia avranno il 20% di costo in meno dentro quelle strutture se poi la regione convenziona e mette un buon 30-40% come ha fatto in altre strutture come sta facendo in quella di Villa Fastigi per esempio è chiaro che le persone che hanno necessità avranno dei costi inferiori io devo ringraziare davvero tanti nostri telespettatori che ci stanno facendo domande chi ce le sta facendo in diretta chi ce le ha fatte in questi giorni una che è arrivata proprio ieri di Gianluca che ci chiede salve sindaco è possibile che ancora non sia stata chiusa la lottizzazione nelle zone di Morciole e Cappone il quale impedisce a chi vuole usufruire del bonus e falsate di non poterlo fare sono passati tra i 20-40 anni cosa si aspetta? io devo dire la verità ho trovato tante cose che erano bloccate un po' alla volta compresa la zona industriale dove c'erano quei due consorsi di Talacchio dove diciamo pure le opere non erano fatte proprio regola d'arte perché tutti i sindaci sono stati prima di me probabilmente le avrebbero già prese quindi si tratta di vedere come sistemarle e come prenderle a carico del comune tutto quello che è possibile perché ci sono per esempio molte realtà che sono di privati che non tutti sono d'accordo di cedere al comune io ho provato di fare diversi tentativi purtuttavia la collaborazione fra noi e privati è molto intensa molto forte e cerchiamo di dare le risposte a tutti i problemi che vengono che vengono posti per esempio noi quest'anno abbiamo e lo faremo anche il 2021 messo quasi 100.000 euro di asfalti abbiamo messo in sicurezza quasi tutta la viabilità in tutto il comune di Vallefoglie insomma abbiamo investito molto abbiamo investito tanti di quei soldi sulle scuole sulle cose primarie sui giovani vedevo prima passando il campo sportivo nuovo di Morciola per circa 750.000 euro con tutti quei ragazzini che giocavano l'altra sera con la pioggia vediamo anche le immagini del campo sportivo Morciola veramente importante quindi le opere sono tante più la gente partecipa più siamo contenti più si collabora meno polemiche strumentali si fanno meglio è perché si può dialogare direttamente col sindaco tutte le volte che uno vuole è chiaro che se uno mi chiama io dico la mia rispondo forse molti hanno un po' di timore non so io penso di essere uno tranquillo diciamo disponibile non penso di mettere su gestione nessuno quindi tutti quelli che vogliono chiamarmi fanno solo un piacere molti mi mandano messaggi su whatsapp io li ringrazio perché ci aiutano quelli che ti chiamano a me non dà fastidio mi dà fastidio se non mi chiamano e fanno polemica senza chiamarti se uno mi chiama e risolve il problema se poi non riesce a risolvere uno fa la polemia niente di male il sale della democrazia a proposito a proposito di risposte lo stiamo vedendo questa sera il sindaco risponde a tutte le domande è arrivata un'altra su whatsapp ha parlato di tante fonti di inquinamento non ha citato l'amianto state valutando possibili soluzioni per cominciare a eliminare questa fonte di inquinamento grazie noi abbiamo approvato un ordine del giorno anche in consiglio comunale proprio questa settimana mi pare il problema è che non è tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare in conto è dire con la bacchetta magica togliete tutto l'amianto in conto è perché questo succeda e come quando ho parlato prima dei beni che sono finiti quelli che hanno fallito perché nel boom economico tutti compravano super macchinoni e andava tutto bene in questa fase è tutto più complicato e tutti i beni sono alla malora sono nelle mani dei curatori fallimentari è facile? non è facile togliere tutte le Eternit ci sono stati un paio di capannoni dove addirittura non so se sono incendi dolosi comunque ci sono stati degli incendi abbiamo dovuto fare un'ordinanza per il cattivo odore anche probabilmente forse delle Eternit non lo so ecco però l'invito è quello di fare in modo che ci sono anche un po' di risorse un po' dell'Unione Europea qualche risorsa e che tutti i privati possono togliere rapidamente l'Eternit e per quel che possiamo noi dobbiamo fare dare il buon esempio come sempre quando io ho detto sono stata a casa una mesata dice ah il sindaco non c'è più hai scomparso se io dico a uno che deve fare una cosa io devo dare il buon esempio se dico a uno alzati presto che ti fa bene io mi alzo presto non mi alza le 11 esattamente una domanda che è arrivata per quanto riguarda la casa della salute è quella perché al sabato è chiusa questo va al discorso del potenziamento della richiesta fatta all'assessore alla salute Salto Martini è una cosa che anche lei ha richiesto che vuole avere una casa della salute aperta sabato mattina da noi c'era una richiesta che gli uffici anagrafe servizi sociali fossero aperti e noi li abbiamo aperti però decideva il comune io qui ho scritto più volte alla regione c'è una resistenza diciamo anche di quelli che magari il sabato sta bene a casa e c'è un problema forse anche di scarsità di personale però noi abbiamo chiesto se verrà l'assessore Salto Martini è una delle cose che io ho scritto come presidente dell'Unione dei Comuni perché la casa della salute riguarda tutta quell'area di 50.000 abitanti quindi lavoriamo e ci impegniamo per farla aprire anche il sabato mattina perché la gente che lavora che non può andare negli altri giorni può andare il sabato mattina abbiamo un'altra telefonata mi dicono dalla regia e quindi andiamo a sentire buonasera sì buonasera si dica pure buonasera sindaco buonasera sono Giacomo Tomassi la volevo ringraziare per il problema che ha prontamente cercato di risolvere per la strada per arrivare al ristorante Country House La Celletta grazie a lei per averla segnalata perché tutte le volte che comunque la interpelliamo è sempre pronto a rispondere quindi veramente la voglio ringraziare pubblicamente grazie a lei è sempre un piacere ringraziamo per la domanda ce ne siamo occupati anche nel Vallefoglia Magazine nella strada che portava la Celletta Country House una parte era del Comune di Vallefoglia una era del Comune di Urbino quella di Vallefoglia si hanno riferito che è stata prontamente aggiustata quella di Urbino ancora anche se anche lì il progetto comunque è iniziato e quindi anche messaggi di ringraziamento parliamo rimangono poco meno di 10 minuti anche un attimo del Natale visto che quest'anno sarà un Natale particolare come mai prima abbiamo vissuto abbiamo visto anche ieri le nuove misure addirittura per la giornata del 25 del 26 del 31 stiamo vedendo le immagini degli alberi anche illuminati questo è quello di Piazza Rossini a Bottega ieri si è tenuta l'illuminazione vediamo anche tutta la città che è illuminata il Comune comunque la città di Avalia Foglia ha voluto fare con queste anche un po' illuminazioni continuare comunque a trasmettere la magia nonostante quest'anno sì io sono molto attento alle telefonate delle persone i messaggi che mi mandano su Whatsapp e mi chiamò una signora di Sant'Angelo e mi dice mi raccomando cercate di ridarci un po' di serenità accendete queste luminari e fatelo dappertutto cercate di tener conto di tutti delle frazioni minori abbiamo cercato di tener conto di tutti Valle Foglia è tutta illuminata non solo perché abbiamo sostituito anche l'illuminazione tradizionale tutte le lampade con tutte le lampade a led più luminose meno costose ed è veramente uno arriva nelle quattro porte della città di Valle Foglia cioè al cimitero degli inglesi e benvenuti a Valle Foglia tutto illuminato poi nella Montalabattese quando uno arriva dove ci sono questi tre gendarmi che è un'opera d'arte della DMM e quest'anno abbiamo illuminato anche quelli con l'autorizzazione di Chigliafatti che ringraziamo e poi sul fronte toscano nella rotatoria vicino a Padiglione c'è scritto benvenuti a Valle Foglia ecco abbiamo cercato alla Fab nel confine con Petriano di ridare un po' di serenità in un Natale particolare molto difficile con sobrietà però l'esenziale perché la gente possa riprendere un po' di serenità addobbi degli alberi di Natale che sono stati donati dal negozio Stefano che l'abbiamo anche intervistato nel Valle Foglia Magazine trascorre il suo primo Natale a Valle Foglia infatti è anche ringraziato pubblicamente il comune e il sindaco cito Stefano perché c'era una domanda probabilmente da chi voleva fare anche spese nel giorno del weekend perché è un mesetto che è chiuso purtroppo a causa del DPCM e per un negozio come questo non si può far nulla non dipende dal comune ma intanto grazie Stefano perché ci ha dato questa disponibilità grazie a tutti i commercianti noi abbiamo fatto un manifesto suggerito anche dalla Confartigianate dove abbiamo detto fate la spesa a Valle Foglia cercate vengono a fare la spesa anche da altri comuni non lo possono più fare purtroppo e voglio fare un appello insomma perché se tutti noi rispettassimo le regole forse probabilmente non c'era bisogno nemmeno di tutte queste chiusure insomma ecco io penso che si debba quanto prima poter riaprire tutte le attività commerciali quindi il problema non è se è aperto o no perché se è chiusa questi devono vivere devono accampare devono mangiare l'economia è molto importante noi questo binomio tutela della salute e tutela della salute dell'economia vanno a braccetto ovviamente speriamo che vedremo bene adesso questo cambio di colore esatto anche perché poi una domanda era un po' anche su questo a prescindere il cambio di colore ma anche il cambio del Natale abbiamo visto ieri il coprifuoco anche il parere del sindaco in base a queste nuove misure cambiano anche gli orari delle messe una domanda addirittura se già il sindaco sa che orari saranno le messe di Natale ma io penso che bisogna usare molto buon senso molta intelligenza anche degli organi che devono controllare ma soprattutto ci vuole un rigoroso rispetto delle regole non è pensabile che ognuno di noi pensa che le regole debbano rispettare gli altri perché questo significa avete visto ieri circa mille morti oggi 800 morti noi abbiamo avuto un bel dramma anche a Vallefoglia e quindi l'invito è a stare molto attenti e a cercare di vivere questo periodo fino a gennaio dopo l'epifania con molta attenzione con molto rispetto delle regole e speriamo di poter riprendere tutte le attività economiche la gente non vuole i sussidi le attività commerciali le attività industriali le imprese vogliono lavorare devo dire che c'è un bel sistema produttivo belle attività commerciali e noi dobbiamo fare di tutto per semplificargli la vita aiutarle perché sono la nostra fortuna la nostra ricchezza che puntiamo ad avere la piena occupazione perché quando tutti hanno il lavoro non solo risparmiamo quasi un milione e mezzo nell'assistenza perché non l'abbiamo mai lasciato diciamo senza le persone di quel che avevano bisogno ma potremmo fare altri investimenti anche se gli investimenti che abbiamo fatto sono tanti e tali che porta a dire a noi che la città di Vallefoglia è tutto un cantiere pubblico e privato perché c'è una bella sinergia anche con i privati che sono coraggiosi e che vanno premiati una delle ultimissime domande perché mancano pochi minuti ed è dal punto di vista appunto sempre della sanità e che si collega anche all'argomento che stiamo affrontando se si può sapere quanti contagiati divisi in fasce di età ci sono a Vallefoglia in questo momento sono una una cinquantacinquina noi ce l'abbiamo complessivi complessivi che sono diciamo un bel numero però non siamo ai livelli di marzo e di aprile insomma ecco noi pensiamo che se la comunità continua a rispettare le regole che abbiamo probabilmente possiamo tenere diciamo una situazione molto sotto controllo ecco vorrei chiudere anche con ieri ho parlato con il capo della segreteria del vice ministro degli interni una delle questioni oltre che il lavoro la salute il benessere la piena occupazione è quella di un polo per la sicurezza adeguato e quindi interloquiamo qui col ministero degli interni perché è una competenza del ministero degli interni per avere come minimo una compagnia di carabinieri i carabinieri che ci sono stanno facendo un lavoro straordinario veramente incommiabile e però sono largamente insufficienti quindi c'è bisogno di un polo per la sicurezza in cui ci sia come in una città di 50-60 mila abitanti una struttura con la polizia di stato la guardia di finanza l'arma di carabinieri c'è un polo per la sicurezza adeguato ad una città che è una città ricchissima dove gira anche gente strana quindi abbiamo bisogno di aumentare da questo punto di vista la sicurezza c'è una bella collaborazione tra la polizia locale e l'arma dei carabinieri e questo ci aiuta almeno in questa fase transitoria Sindaco una battuta al volo velocissima cosa ne pensa del nuovo governo della regione Marche quindi la presidenza Acquaroli sappiamo che è stato questo cambiamento per la regione Marche lei comunque gli ha mandato i suoi auguri quando è stato eletto ma io conosco quasi tutti ad Acquaroli gli ho mandato un auguri di buon lavoro il primo assessore che è venuto è venuto quando abbiamo consegnato i cinque alloggi di case popolari a Colbordo Aguzzi Aguzzi ho invitato l'assessore alla sanità c'è un dialogo anche col vicepresidente Carloni anche sulle attività commerciali quindi spero di avere un buon un buon rapporto ho inviato una lettera di 500 mila euro al presidente Acquaroli e all'assessore al bilancio Castelli che conosco che è l'ex sindaco di Ascoli per l'Unione dei Comuni perché siamo la prima Unione dei Comuni delle Marche con 20 mila imprese oltre 150 mila abitanti una delle più grosse d'Italia è chiaro che bisogna avere un po' di risorse perché ciocca incoraggiarci ancora di più a lavorare insieme non dico che bisogna fare un'unica città ma lavoriamo come questi sei comuni sanno lavorare insieme anzi lavoriamo insieme anche con Montelabate anche se non è nell'Unione perché siamo un po' tutt'uno per esempio adesso i buoni abbiamo concordato un po' con i comuni confinanti compreso Tavuglia Montelabate eccetera per avere una linea condivisa di tutti i comuni confinanti perché uno fa fatica da Osteria Nuova a capire dove è il confine molti di quelli che vengono dall'Italia e dal mondo non guardano i confini amministrativi guardano la bontà dei servizi dei nidi delle scuole della casa della salute i servizi sanitari della sicurezza della bontà della qualità della vita della città siamo davvero in chiusura io permetto anche al sindaco di fare gli auguri di Natale anche se mancano tre settimane esatte venerdì 4 dicembre venerdì 25 dicembre rivedremo il sindaco sicuramente le prossime settimane anche nei servizi del Vallefoglia Magazine parola a lei sindaco fare gli auguri ai suoi cittadini e non solo ma io vorrei augurare a tutti un buon Natale un buon anno un buon epifania buone feste diciamo quest'anno un po' particolare però ecco dobbiamo farcela ce la faremo usciremo anche da questa vicenda drammatica e come dicono i grandi pensatori se siamo bravi se stiamo attenti forse riusciamo e usciamo ancora più forti di prima perché nei momenti difficili e drammatici zaguzza l'ingegno c'è bisogno di grande coesione di grande solidarietà di una comunità che sa stare insieme a Vallefoglie io penso che sia una bella comunità che può stare insieme e lavorare per riuscire meglio di quanto siamo entrati in questa vicenda drammatica della pandemia quindi buone feste ringraziamo quindi il sindaco Palmiro Chieli per essere stato qua con noi questa sera in diretta ringraziamo anche voi il nostro pubblico che ci ha davvero scritto in tantissimi per fare le domande al sindaco i miei ringraziamenti personali per essere stato qua questa sera grazie mille grazie a lei grazie a voi grazie a tutti i telespettatori io ringrazio i nostri telespettatori vi continuo a dire di seguire sempre Rossini TV adesso ci sarà anche una nuova programmazione avremo in collegamento da Fano l'accensione dell'Aldora di Natale in programma non appena terminata la diretta e poi in diretta qua da studio domani mattina alle 7.20 la rassegna stampa con il collega giornalista Antonio Astuti è davvero tutto vi ringrazio davvero per averci iscritto in tantissimi per averci seguito e vi auguriamo una buona serata grazie a tutti i nostri spettatori